buongiorno a tutti allora concludiamo concludiamo il tour de force delle schedine e bollettine del gigione con il campionato francese come avevo previsto la partita che doveva assegnarne una marea di gol è finita 0 a 0 la partita che invece dicevano è under e under è finita 3 a 2 lasciamo perdere tre cose veloci veloci da leccarsi le orecchie sponsorizzazione del pronosticatore folle per i pronosticatori quelli che gli piace giocare tutti i giorni in schedine bollettine quant'altro per chi ama la serie a c'è l'interista dentro con i suoi pronostici veloci veloci da leccarsi le orecchie due due pronosticini per ogni partita e stop o un consiglio solo e naturalmente la diretta col gigione lunedì sera a partire dalle ore 22 che quella classica ormai è un appuntamento fisso detto questo andiamo a parlare di campionato francese come dicevamo rennate finita 3 a 2 di bidine e partiamo subito col massacro teorico di paris saint germain montpellier 1 teorico è perché la prima contro la quarta attenzione e paris saint germain sapete che è una squadra folle sta stravincendo il campionato ogni tanto si dimentica di essere la numero uno e combinano disastri digione brest 1x nims monaco 2 angers rens 1x strasburgo lil partita da tripla tripla veramente questo messo l'1 2 ma non avrei voluto giocare la però devo fare la schedina quindi rischiamo all'1 2 amien tolos 1x o tolosa partite di domenica nizza lione x2 metz saint etienne 1x è scontro diretto praticamente una dietro l'altra e bordeaux marsiglia x2 vediamo alla schedina alternativa che qua sono stato fatto 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 è proprio un po folle ve lo dico subito paris saint germain montpellier sono stato basso over due e mezzo ma perché non mi fido del paris saint germain poi magari finisce 45 44 però questi ultimamente stanno stanno battendo la fiacca come si suol dire minimo indispensare massimo risultato col minimo anzi minimo risultato col minimissimo sforzo digione brest over 1 e mezzo nims monaco over 1 e mezzo angers rens under 3 e mezzo strasburgo lil under 3 e mezzo amien stolosa over 1 e mezzo e poi le tre partite di domenica me le sono arrischiate col gol nizza dione gol metz saint etienne gol e bordeaux marsiglia gol non so mi sento che almeno 1 a 1 ste partite possono tranquillamente finire poi mi sbaglierò e me lo direte e me lo direte nella diretta di lunedì detto questo andiamo alle schedine partendo dalle fisse digione brest 1 mims monaco 2 angers rens 1 amien stolosa 1 con 5 euro 73 euro 18 se la becco anche stavolta ciao solo fortuna ve lo dico sinceramente seconda schedina digione brest 1x nims monaco 2 angers rens 1x amien stolosa 1x con 5 euro 15 euro 68 lo so sono pochi però sono per coprire eventualmente le tre giocate che potreste fare terza bollettina digione brest 1x piove nims monaco 2 piove angers rens 1x piove e amien stolosa 1x piove con 5 euro 39 euro e 23 mi sembra una cifrina da libidine quarta bollettina digione brest gol ospite stavolta non sbaglio amiens monaco gol casa angers rens gol casa e amiens stolosa gol casa ecco siamo alle solite allora ripetiamo digione brest gol ospite nims monaco gol casa angers rens gol ospite e amiens stolosa gol ospite facciamo le cose per bene quindi sono tre gol ospite è un gol casa l'unico gol casa di nims monaco con 5 euro se ne vincono 23 51 questa comincia a essere una cifrettina un po più alta più carina per il gol casa gol ospite quinta bollettina digione brest gol piove nims monaco gol piove angers rens gol piove e amiens stolosa gol piove per quanto riguarda digione brest e nims monaco il gol piove è favorito non di molto però è favorito angers rens è sconsigliato cioè praticamente questa dovrebbe finire 1 a 0 una partita da 1 a 0 e attenzione che quando dicono che questa è una parte perché perché stanno lì a studiare c'è poi finisce 3 a 2 come ren renant di ieri sera che doveva essere una partita da andare perché l'over era dato oltre il 2 finita 3 a 2 questo è lui di me quindi però io ve lo dico e poi amiens stolosa il gol il no gol piove è leggermente favorito c'è una differenza di 0 40 quindi però siamo lì quindi con quattro gol piove molto arrischiati per quanto riguarda anche slems con cinque euro se ne vincono 191,95 veniamo altri combo che naturalmente ho fatto con le due opzioni perché essendoci due partite che teoricamente sono danno gol vediamo di farli tutte e due allora digione brest uno più gol piove nims monaco due più gol piove angers rens uno più gol piove e amiens anche la bollettina alternativa lasciando di giorno e brest uno più gol piove nims monaco due più gol piove e poi angers rens uno più no gol più and e amiens stolosa uno più no gol più and in questo caso la quota scende naturalmente con due euro se ne vincono 350 che sempre un bel prendere e con cinque euro se ne vincono 875,85 detto questo io vi saluto, vi ringrazio ci vediamo ai prossimi video spero che questi siano online entro mezzogiorno mezzogiorno la 1 alle 2 della giornata di sabato, così almeno avete il tempo per poterle giocare ciao